52. Un insegnamento della Chiesa spesso dimenticato. La Chiesa ha insegnato numerose volte che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende l'iniziativa. I padri della Chiesa, anche prima di Sant'Agostino, hanno espresso con chiarezza questa convenzione primaria. San Giovanni Crisostomo affermava che Dio verse in noi la fonte stessa di tutti i doni, prima che noi siamo entrati nel combattimento. San Basilio Magno rimarcava che il fedele si gloria solo in Dio, perché riconosce di essere privo della vera giustizia. È giustificato unicamente per me ante la fede in Cristo. 53. Il secondo sinodo di Orange ha insegnato con fermo autorità che nessun essere umano può esigere, meritare o comprare il dono della grazia divina, e che tutto ciò che può cooperare con essa è previamente dono della medesima grazia. Persino i desideri di essere puri si attua in noi per infusione operazioni su di noi dello Spirito Santo. Successivamente il Concilio di Trento, anche quando sottolineò l'importanza della nostra cooperazione per la crescita spirituale, riaffermò quell'insegnamento dogmatico. Si afferma che siamo giustificati gratuitamente, perché nulla di quanto precede la giustificazione, sia la fede, sia le opere, merita la grazia stessa della giustificazione. Perché se è grazia, allora non è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia.